Sul piano politico qual è la sua replica all'opposizione di centrodestra che dice che lei ha fatto una promessa, ossia quella di risolvere il contratto con Girgenti Acqua e che non potrà mantenere? Intanto non capisco su che cosa basino questo tipo di critica. Sono abituati alle critiche ormai anche senza fondamento, quindi verosimilmente rientra in questa logica, perché non mi pare che dal momento in cui mi sia insediata ad oggi ci sia stata una battuta d'arresto sotto questo profilo perché tutto quello che è propedeutico alla risoluzione si è fatto, si sta facendo, si continua a fare. Stiamo lavorando sulla risoluzione, abbiamo un'idea chiara sulla risoluzione, quindi non capisco a che cosa si riferiscono. Peraltro questa promessa non mantenuta, dico non era neanche una promessa del candidato sindaco Valenti, ma era una promessa di tutti i candidati sindaco, perché io ricordo che lo stesso candidato del centrodestra, il dottore Bono, aveva tra i punti del suo programma quello di procedere con la risoluzione del contratto. Quindi alla fine non mi pare, anzi dovremmo essere tutti quanti concordi nel ritenere che questa è la strada che deve essere eseguita e io mi auguro e mi aspetto che anche il centrodestra vada a partecipare a questa scelta. Non ci sta Francesca Valenti a passare come colei che sulla questione della risoluzione del contratto tra lati e girgenti acqua è illuso i cittadini. Non è stata la sola a parlare di questa prospettiva, a farlo sono stati anche altri. In ogni caso il percorso va avanti. L'orientamento per ottenere la risoluzione del contratto procede, adesso occorre soltanto, spiega il sindaco di Sciacca, a prevedere la metodologia da seguire. L'avvocato Mazzarella, con il quale ci siamo incontrati anche ieri mattina, è stato invitato a partecipare all'assemblea del lati, perché è corretto che il professionista spieghi ai sindaci quali sono i percorsi che possono essere eseguiti in maniera tale che sia l'assemblea può decidere il percorso che ritiene più consono per procedere alla risoluzione del contratto. Però la strada che si è intrapresa è una strada di non ritorno, nel senso che non ci sono cenni che possono in questo momento portarci a pensare di fermarci e quindi di tornare indietro. L'AT intanto pensa al piano tariffario del 2018, che dovrà essere più basso come quello del 2017. Questione che però, come si sa, è finita sul tavolo del Tarra, al quale Girgentiacque si è appellata, ritenendo quelle tariffe incoerenti col programma di investimenti effettuato. A proposito delle recenti interruzioni Enel dei pozzi di Sciacca, il sindaco si è domandata polemicamente dove siano finiti i gruppi elettrogene di cui i vertici dei Girgentiacque avevano parlato nel corso della conferenza di due lunedì fa. E Francesca Valenti assicura, stiamo lavorando ad un piano alternativo da utilizzare nel momento in cui Girgentiacque dovesse fare le valigie. Se portiamo avanti, come stiamo portando avanti la risoluzione, dobbiamo portare avanti anche un discorso alternativo, perché altrimenti anche lì diventa un discorso lasciato a metà. In che termini cosa possiamo immaginare? Ma poi le opzioni sono quelle riconosciute, peraltro, anche dal punto di vista legislativo, nel senso che o si procede con un nuovo gestore privato, o altrimenti si pensa ad un meccanismo di società pubblica o ad un meccanismo di società mista. Ma tutto questo ovviamente va costruito e si sta costruendo nella valutazione dei costi, dei rischi e dei benefici. E lei quale opzione preferirebbe? Questo appena abbiamo le idee chiare, credo che anche su quello parleremo, perché non è una cosa che verrà calata dall'alto, credo che sia qualcosa sulla quale bisogna discutere e politicamente affrontarla in maniera molto ampia, chiedendo una condivisione la più ampia possibile.